Un corpo senza vita è stato rinvenuto ieri in un dirupo nei pressi della località Grecia del comune di Simeri Cricchi in provincia di Catanzaro. L'uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è stato ritrovato con la testa mozzata a pochi metri dal corpo. Nei primi rilievi effettuati dagli inquirenti è constatato lo stato di decomposizione, i fatti sarebbero riconducibili a diversi mesi fa. Tra l'ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella che il corpo possa essere di un uomo dell'apparente età di 30 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri in investigazioni scientifiche, il medico legale e il magistrato di turno Vito Valerio. Le indagini sono svolte dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina, diretti dal capitano Alberigo De Francesco. Il corpo è stato ritrovato da alcuni abitanti del luogo intenti a scattare delle foto alla fondamenta di un muro. Il primo sospetto è stato quello che potesse trattarsi di un manichino subito dopo la richiesta di intervento dei carabinieri. Al momento non risultano comunque denunce di scomparsa nel paese, ma i carabinieri stanno vagliando le segnalazioni che riguardano tutta la provincia.